Easy Poker si rifà il look! Scopri subito il nuovo client e lasciati stregare dal fascino dei nostri tavoli. Puoi giocare come e dove vuoi, anche dal tuo tablet e dal tuo smartphone. Registrati e ricevi il bonus di benvenuto di 1000 euro! www.easypoker.it Per le probabilità di vincita, consultare il sito www.cogetech.it Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.